sono con voi ora, quanti sono? e lei è sempre diversa, e poi me lo fai in un modo di cosa, lo specifico i questi cuori li faccio, siccome li dividerò in 5, uno lo faccio in un altro modo, poi mi dite voi, va bene, se devo continuare con voi, facciamo un po' grazie 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 Sì, 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 no, no, sì, 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 no, grazie a te, allora, quando vuoi sono disposto, ok. Sì, me lo ricordo, sì, sì, io poi man mano che tu parli. Poi piacere, dai, a piuttare di cioccià. E' un po' di pane per i signori di tagliere per 2 e per i ragazzi di tagliere per 3 E' un po' di pane per i ragazzi di tagliere per 1 e per i ragazzi di tagliere per 3 e per i ragazzi di tagliere per 3 Viena Viena Sì Viena E' una vita mia lei Mille grazie